perfetto allora buonasera a tutti grazie di essere qui questa sera abbiamo ancora una persona che sta entrando questa sera non c'è la colonna portante di sapere digitale che è Augusta Giovannoli perché è impegnata in una bellissima cosa che sta facendo lì a Settimo nel senso che c'è questo track di parole ostili che gira per l'Italia e oggi arrivava a Settimo e quindi lei doveva presiedere a questo a questo evento e niente quindi direi che vi introduco l'argomento del giorno, sapere digitale probabilmente molti di voi già sanno che cos'è, hanno già partecipato ad altri incontri, è un progetto che si occupa di dare competenze digitali soprattutto ai bibliotecari ma anche agli insegnanti è un progetto che va avanti da due anni ormai e appunto organizzo una serie di iniziative ed è finanziato dalla compagnia di San Paolo fra queste iniziative ci sono appunto questi seminari, questo ciclo di seminari che organizzo che si chiama Conversioni e l'anno scorso era dedicato soprattutto alla didattica digitale quest'anno invece abbiamo voluto come dire virare di più sul tema dell'open e quindi ci sono su cinque eventi ce ne sono praticamente quattro che sono dedicati al tema della conoscenza aperta questo in particolare di oggi vede i nostri due speaker Enrica Bricchetto e Igor Pizzi Russo che ringrazio per aver accettato l'invito che declineranno questo tema della conoscenza aperta sulla storia e non sto a presentarli perché appunto farei comunque un lavoro malfatto Enrica la conosco e collaboriamo da anni Igor l'ho conosciuto per questo evento sono tutte due due persone molto interessanti e disponibili e ci parleranno appunto di quello che fanno nell'ambito dell'archivistica e della storia quindi do a voi la parola e poi vi lascio come si dice allora buonasera a tutte e a tutti scusa Igor se già infrango la scaletta però avevo dubbi non avevo mi permetto no 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 mi voglio prendere un minuto proprio per presentarvi Igor Pizzi Russo perché Igor ha competenze che sono veramente rarissime perché è uno storico è un public historian ed è anche un webmaster però inteso in senso ovviamente tecnico perché ha tutte le competenze per creare ha creato moltissimi siti tra cui adesso questo proprio che vi faremo vedere non l'ha creato ma quello di 900.org sì e è un creatore appunto di siti diciamo legati sostanzialmente alla rete degli istituti storici della resistenza alla quale tutti e due lavoriamo diciamo con ruoli molto diversi però quello che mi preme sottolineare che lui ha proprio un profilo diciamo di umanistica digitale quindi ha tutte le competenze dello storico ma allo stesso tempo conosce le infrastrutture digitali ma conosce anche gli applicativi quindi insomma è veramente una figura che spesso come dire è anche molto molto interessante presentare poi agli studenti alle studentesse perché sono proprio le nuove competenze lui è così bravo perché veramente ha due competenze che sono fondamentali per il terzo millennio quindi adesso vi adesso vi lascio veramente la parte adesso Igor tu dovresti presentare Enrica potrei presentare Enrica che è una forza della natura tutto ciò che fa nella didattica digitale soprattutto didattica a distanza insomma ha scritto ha pubblicato fa ancora tantissime cose con gli studenti con gli insegnanti quindi ha grandissime competenze collabora ancora con Cremit quindi col centro insomma diretto da Piercesere Rivoltella quindi anche Enrica è una figura nel panorama dei docenti italiani e dei ricercatori italiani rara molto rara ci siamo fatti l'oglia vicenda abbiamo alzato tantissimo gli standard e quindi immagino che ci si aspetti da noi le cose mirabolanti no in realtà no in realtà partirei a questo punto ragionando proprio sul concetto di conoscenza aperta no cosa intendiamo per conoscenza aperta diciamo che a volte c'è un po' un fraintendimento tra conoscenza aperta e conoscenza partecipata diciamo la conoscenza partecipata tendenzialmente ha un tipo di conoscenza aperta ma non è non è esclusiva diciamo così la definizione conoscenza partecipata non si intendono tanto dei reti di utenti social network quanto proprio più le piattaforme per la co-creazione dei contenuti storici nel caso di contenuti storici ma dei contenuti scientifici in generale è questo un po' il concetto appunto della public history non la co-creazione dei contenuti da shared authority esempi classici canonici l'esempio classico canonico è quello di wikipedia che conosciamo tutti ce ne sono anche altri però in realtà quando parliamo di conoscenza aperta di open knowledge si intende qualcos'altro in cui la conoscenza partecipata entra ma non non esaurisce diciamo così la definizione per conoscenza aperta si intende fondamentalmente il libero accesso di informazioni e si intende anche il loro libero riutilizzo e questa è una componente molto importante della conoscenza aperta cioè il fatto che io non solo posso leggere un saggio storico fruire dei materiali ma li posso anche riutilizzare li posso riutilizzare a mio piacimento in alcuni casi poi lì dipende ci sono diverse licenze con cui vengono rilasciati i contenuti alcune presuppongono che non si possano fare modifiche altre presuppongono che si possano fare modifiche ma che si citi la fonte altre presuppongono tutto questo ma che non ne vengono fatti degli utilizzi commerciali quindi io per esempio non posso utilizzare un contenuto di questo tipo per una pubblicità molto banalmente questo poi si usa molto sulle immagini con le licenze Creative Commons riutilizzo però significa ad esempio quando ne ragioniamo in termini di catalogazione di repertori storici archivistici biblioteconomici il riutilizzo proprio del corpus dei dati quindi banche dati i cui dati possono essere estrapolati e riutilizzati e rielaborati da altri e poi in chiusura con il mio intervento vedremo qualche qualche esempio e anche qualche criticità e qualche resistenza del mondo degli storici da questo punto di vista se parliamo appunto però di materiali liberamente consultabili e riutilizzabili parliamo tra i vari prodotti che la rete fa sicuramente del sito dell'istituto piemontese di Istoreto di cui Enrico appunto fra un attimo ci parlerà un po' più in dettaglio un sito che di per sé non è in libera consultazione non è in conoscenza libera tutto il sito ma fondamentalmente per un motivo legato agli archivi perché sulle carte d'archivi in particolare sulle fotografie la questione dei diritti è un po' complicata non scendiamo nel dettaglio adesso se magari ci sono domande per approfondire dopo lo affrontiamo dopo sono però sicuramente ad accesso libero ed è declinato questi canali tematici che sono dei raccoglitori di risorse eterogene ipermediali e molto interessanti Erika non ricordo qual era quello che avevamo detto che volevi vedere qui il primo giorno del ricordo non ti sento le giraziali se ho visto dal labiale le giraziali le giraziali le giraziali ok perfetto scorro verso il fondo così faccio vedere la cosa di cui stavo parlando prima poi ti lascio la parola se ne andiamo a vedere verso il fondo appunto abbiamo la segnalazione che questa sezione in particolare del sito di Storetto è rilasciata in questo caso della licenza è appunto un Creative Commons CC BY NC che vuol dire BY cioè va citata la fonte e NC non possono essere fatti di questi materiali degli usi commerciali cioè nulla di tutto di tutto di ciò che c'è in questa sezione può essere utilizzata a scopo di lucro o per una pubblicità o per vendere del materiale che in esse è contenuto Enrico allora Igor Igor c'è un colpo di scena nel senso nel senso che tu devi fare vedere il sito sì perché io non posso ok va bene dimmi dove allora partiamo pure da qui partiamo pure da qui intanto saluto tutte e tutti e mi scuso perché oggi stanno succedendo delle cose un po' incomprensibili però oramai diciamo questa modalità di lavoro ci ha abituato a tutto e devo dire che appunto io lavoro a Istoreto da un anno e mezzo e sono stata diciamo sono un insegnante di staccata e il mio lavoro principalmente qui è stato soprattutto in questo anno e mezzo di diciamo revisione dei contenuti del sito soprattutto sul fronte diciamo della consultazione generale ma anche per la parte didattica ovviamente qualsiasi cosa è stata fatta nel sito è stata discussa con Igor ed è stata discussa ovviamente anche con tutti i membri del nostro istituto la direttrice il presidente l'archivista la bibliotecaria quindi è diciamo un lavoro collettivo io voglio partire dai canali perché i canali tematici sono sono interessanti e consultabili adesso la parola aperta abbiamo già capito le sfaccettature che assume dentro il nostro sito però attingere diciamo ed esplorare questi canali tematici è diciamo importante utile per cittadini e cittadine che vogliono avere più informazioni infatti adesso Igor riapre il canale Leggi Razziali e anche perché hanno un po' una una costruzione simile non li abbiamo ancora rivisti tutti perché voglio anche aggiungere che il sito è un sito che ha molti anni nel senso che l'istituto ha cominciato presto a entrare appunto in questo mondo e adesso stiamo ovviamente modificando e rivedendo sia dal punto di vista dello stile ma anche per renderlo sempre più rispondente alla ricchezza del dell'attività di ricerca e didattica del nostro istituto quindi i canali sì volevo solo dirti non so se è sfuggito a me ma che cosa hai storito ah ecco sì hai ragione non è sfuggito a te perché io l'avevo detto però effettivamente l'ho detto di fretta quindi ah va bene allora perché io ho avuto quel problema allora ecco benissimo per la storia della resistenza e della società contemporanea intitolato a Giorgio Agosti fa parte di una rete di istituti storici della resistenza e sono 66 in tutta Italia Igor lavora per l'istituto nazionale che è l'istituto intitolato a Ferruccio Parri che è a Milano ma la cosa che è molto importante diciamo che sia chiara è che gli istituti nascono sulle carte della resistenza quindi quasi tutti il nostro in particolare anche quello di Milano ma insomma tutti hanno i cosiddetti fondi originari del appunto del movimento e dei insomma dei venti mesi di 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 attività della resistenza e del insomma e del partigianato inizialmente appunto erano istituti di ricerca ma lo sono rimasti però anche che anche all'inizio avevano comunque una vocazione anche di far conoscere la cittadinanza quello che è successo dare l'accesso alle carte anche entrare poi nel dibattito nel dibattito pubblico oggi tutti sono diventati anche istituti di storia contemporanea quindi si è anche allargato diciamo sia tutto quello che noi riceviamo come materiali archivistici ma anche poi la nostra attività quindi tutti hanno aggiunto alla loro diciamo definizione originaria istituto storico della resistenza anche della storia contemporanea quindi come istituti storici della resistenza adesso ritorno a parlare di Istoreto che ha sede a Torino nei quartieri uvariani e dentro il polo del novecento quindi Istoreto è uno dei 26 istituti che fanno parte del polo del novecento chi è di Torino o può venire a Torino è un'esperienza molto interessante mettere il naso in questo mondo tutto di storie di cultura del novecento noi come Istoreto siamo un istituto di ricerca e quindi soprattutto di ricerca quindi di fonti e abbiamo l'archivio però stiamo sviluppando sempre di più anche il cotè didattico ma anche diciamo di educazione alla cittadinanza e anche di apertura verso la cittadinanza quindi quando con Igor abbiamo ricominciato e con tutti noi qua a ripensare i canali abbiamo detto i canali devono servire a chi insegna agli studenti alle studentesse che vogliono lavorarci ma anche a chi vuole entrare e farsi come dire un'idea del tema allora i canali hanno una un'organizzazione che è simile per tutti cioè hanno un video che li come dire li introduce poi ed è quello che in questo caso appunto è un video che tra l'altro è stato un video originale che ha anche partecipato a un festival però adesso ovviamente non entro nel merito poi scendendo scendendo a parte appunto che sintetizza quello che ha appena detto si trovano questi quattro tasti i quattro tasti sono quelli diciamo danno gli strumenti che per noi sono fondamentali per la conoscenza la rielaborazione e la riflessione del tema delle leggi razziali quindi noi abbiamo immaginato il contesto quindi all'interno del contesto ci sono materiali che aiutano a capire appunto che cosa è successo con link che portano a materiali diciamo che vanno fuori anche del del nostro istituto quindi qui abbiamo messo Igor puoi anche andare leggermente più veloce pagine i provvedimenti sulla razza una galleria di prime pagine il discorso di Mussolini e poi degli approfondimenti gli altri due tasti invece bibliografia ovviamente tutto è sempre in divenire e anche stamattina o aggiornato comunque dall'archivio istoretto è la nostra parte veramente originale perché in ogni canale noi abbiamo messo materiali che possiamo diciamo far vedere far utilizzare a chi vuole qui abbiamo i quaderni di Elena Ottolenghi Vita Finzi che sono appunto adesso non entro nel merito però poi vi invito diciamo a guardarli e quindi abbiamo messo dei materiali che sono del nostro archivio ovviamente per ricercatori o per chi vuole approfondire a livello di ricerca più alto abbiamo il nostro diciamo il nostro archivio e il nostro sistema integrato di archivi che si chiama Arcos che noi ora io ora non vi posso far vedere perché diciamo è un po' complesso ma comunque è comunque consultabile e poi nel caso c'è la mail della persona che può dare la consulenza quello che ora io quello su cui io insisto un po' di più è il versante un po' per tutti quindi abbiamo il appunto questo tasto e poi c'è l'ultimo tasto che voglio farvi vedere che si intitola laboratorio didattico allora questo forse è più dedicato anzi senza forse è dedicato più agli insegnanti e agli studenti e alle studentesse ci sono i canali hanno sia dei come dire dei materiali didatticamente organizzati se scendi un pochino Igor si vedono alcuni elementi diciamo proprio più metodologici quindi proposte diciamo di lezioni e di modelli di lezioni e poi dei percorsi didattici che consentono di solito ecco se vuoi cliccare su esclusione dalla vita per esempio quello proviene da un corso di formazione che abbiamo fatto e che poi abbiamo trasformato in un in un artefatto che consente a chi vuole ragionare come dire in modo approfondito sul tema delle leggi razziali ha la possibilità di avere delle video lezioni di avere dei materiali didattici di avere la spiegazione del metodo quindi sostanzialmente la parte di laboratorio didattico serve agli insegnanti per organizzare meglio il loro lavoro didattico tenendo conto che hanno sempre un cotè diciamo forte dal punto di vista del rapporto con le fonti perché noi qui siamo in un luogo che è proprio il luogo giusto quindi tutto quello che proponiamo sono materiali che poi possono essere analizzati ma sono anche come dire rielaborazioni interpretazioni che sono fatte dagli storici e dalle storiche che noi interpelliamo quindi questo per dirvi come sono fatti i canali Igor se vuoi solo aprire un momento il canale del giorno della memoria che è quello che abbiamo insomma il giorno della memoria che è appunto appena passato anche qui vedete c'è un trailer di uno spettacolo che noi abbiamo organizzato proprio per il giorno della memoria poi ci sono tutti i link che sono alla registrazione integrale dello spettacolo agli interventi che ci sono stati ci sono le iniziative del 2023 poi anche qui adesso Igor va un po' più veloce e vi faccio rivedere lo stesso lo stesso dove vedete passato prossimo è una definizione che ci siamo inventati per metterci le cose che sono passate però sempre con l'idea che ci possono sempre servire quindi io direi Igor che sul canale sui canali mi sono abbastanza penso abbastanza spiegata se torniamo invece alla home ovviamente io vorrei soltanto essere un po' di stimolo perché magari voi non solo vi esploriate il nostro sito ma poi vi iscriviate alla nostra newsletter ci seguiate nei nostri canali social perché stiamo appunto cercando il più possibile di ecco qua c'è la newsletter se poi vi volete vi volete iscrivere così sarete sempre informati allora nella parte più che noi chiamiamo dello scorrimento ci sono le informazioni e le cose gli eventi più recenti diciamo quelli che stanno per per accadere adesso se Igor vai avanti dopo c'è la parte sul giorno della memoria l'abbiamo ancora tenuta perché abbiamo un po' l'idea che non è che proprio finisca tutto il 27 gennaio e poi questa è un'iniziativa che insomma di formazione per gli insegnanti che avverrà il 15 il 15 febbraio e quindi c'è diciamo a questo carattere diciamo di di attualità e c'è insomma di attualità di quello che sta succedendo poi ci sono i quattro tastoni che sono le colonne no? come dice la nostra direttrice del nostro istituto quindi l'archivio la biblioteca le banche dati che consentono di fare ricerche specifiche però consentono a chiunque di per esempio la banca dati del partigianato piemontese consente di fare delle ricerche anche per chi ha semplicemente delle curiosità e non non è proprio un ricercatore poi è chiaro che l'interfaccia è tutto io non so ecco Igor se vuoi far tu un esempio vedete vi viene fuori il nome io ieri l'ho fatto con Novi Ligure che sono venuti fuori tutti i partigiani di Novi Ligure anche qui chiaramente lo strumento è per ricercatori però è anche vero che sia a livello didattico sia a livello di semplici cittadini può può essere utile ed era interessante perché poi adesso noi non possiamo diffonderci su come è stata fatta questa banca dati cioè io ve la faccio vedere così perché stiamo facendo una carrellata tenete conto che è uno è un database molto specifico che si fonda su un corpus preciso ma io ora non mi posso ovviamente poi o se avete delle domande oppure se avete mi potete scrivere e chiariamo meglio le cose e poi c'è il media center che l'abbiamo creato da poco e il media center ha diciamo tutto quello che riguarda le nostre sia produzioni audio e video adesso qua abbiamo questi due video vi raccontano sia bene che caratteristiche ha il nostro archivio e anche l'altro è sulla su un'installazione che ha il museo diffuso della resistenza però volevo far vedere più sotto perché ci sono altri quattro tasti e qui ci sono tutte le diciamo le trasmissioni in cui vengono coinvolti i membri del nostro istituto per esempio se apriamo Raiplay è andata in onda due giorni fa una trasmissione di Passato e Presente insomma per intenderci quella di Paolo Mieli ovviamente io lì non posso usare l'immagine di Passato e Presente perché non so se posso farlo quindi io non l'ho messa però se voi cliccate andate direttamente nel sito di Raiplay e sentite la nostra direttrice Barbara Berruti che parla e viene intervistata insomma risponde alle domande di Paolo Mieli su Italo Calvino visto che ora è centenario e quindi per dirvi cerchiamo un po' poi nella parte dei podcast ci sono vari podcast di storici che collaborano con noi e quindi insomma questo per dirvi che c'è anche nelle iniziative in streaming si rimanda al nostro canale YouTube in cui abbiamo tutte le nostre playlist che è di tutto quello che facciamo e quindi questo per quel che riguarda ho quasi finito il mio tempo e quindi vorrei ancora solo farvi vedere se torniamo nella home quindi è un po' come dire io vi sto descrivendo c'è tutto quello a cui potete in qualche modo accedere e a seconda poi ovviamente di quello che vi interessa in primo piano vorrebbe essere diciamo la parte un po' più informativa quindi ogni tanto pubblichiamo anche interviste diciamo i materiali originali diciamo questo non lo facciamo sempre perché non è proprio semplicissimo farlo però per esempio noi abbiamo l'abitudine di ripubblicare gli articoli di Giovanni De Luna che pubblica sulla stampa perché è membro del nostro direttivo o del nostro presidente Paolo Borgna che scrive il suo avvenire noi giorni successivi questo è un articolo molto bello che ha scritto De Luna il 27 gennaio noi abbiamo appunto quindi c'è sempre una relazione diciamo con noi e oppure poi ci sono altri altre notizie o altri articoli che facciamo e gli ultimi le ultime due parti che sono un po' sono ecco questo è una sezione che si chiama Fondi sulla guerra in Ucraina che abbiamo inaugurato purtroppo dopo un po' che è iniziata la guerra mai avremmo pensato che l'avremmo lasciata lì così tanto e è uscito anche un libro che è stato curato dai nostri insomma da Riccardo Marchis e da Luciano Boccalatte e da Paolo Borgna con tutta una serie di saggi e noi qui cerchiamo di anche qui dare materiale per chi vuole informarsi o anche per gli insegnanti c'è un fascicolo che consente di lavorare proprio sul tema in classe e così insomma qui cerchiamo il più possibile di mettere cose che riguardano questo e nell'ultima sezione che farei vedere c'è la nostra offerta formativa allora questa adesso ne devo aggiungere uno che manca perché lo metto domani e qui ci sono i corsi che noi facciamo e che riguardano gli insegnanti e le classi l'ultimissima cosa Igor perché allora ancora forse qualche minuto se voi guardate nella barra in alto dove c'è scritto istituto agenda archivio eccetera e tutte queste parti sarebbero tutte da esplorare io mi vorrei limitare a segnalarvi appunto la parte di didattica dove ci sono molti tutti i nostri progetti in corso che diciamo che sono molti di più delle nostre iniziative formative e quindi questo è dedicato diciamo sostanzialmente al mondo della scuola e invece poi c'è la parte ricerca che invece è legata ai nostri progetti di ricerca talvolta le due cose si incrociano perché per esempio il colonialismo e noi è legato alla ricerca perché è un archivio che ci è stato donato recentemente però adesso sta per partire anche un'iniziativa didattica diciamo che ci teniamo molto a questo che ci sia un legame tra non è semplice perché molti molti temi sono temi di ricerca e non è possibile però quando è possibile proviamo a creare questi questi legami e poi c'è la parte di pubblicazioni dove ci sono le pubblicazioni che che sono a cura dell'istituto questa ce ne mancano un paio ma adesso ci organizziamo e le mettiamo quindi io concludo convinta profondamente convinta di avervi dato un'idea molto sommaria di quello che è il nostro sito però vorrei appunto che fosse vissuto come un luogo in cui trovare materiali anche un po' predisposti un po' già un po' pronti e che sia che possa veramente servire a tutti perché certamente per i ricercatori è un luogo a cui arrivano però magari gli altri un po' per il nome un po' perché sono comunque insomma non è facile farsi conoscere non sempre magari non immaginano che dentro ci sia tutto questo ovviamente tutto questo dal punto di vista anche della realizzazione della progettazione si deve anche a si deve a Igor che progetta le pagine e poi io le implemento più o meno ci faccio il possibile e adesso io se direi che vi vi ringrazio e penso di aver detto abbastanza Igor non so se sei d'accordo in realtà siccome potete parlare ancora un po' ce l'avevamo accordati su sì ma non vorrei poi toglierti no ma facciamo così io direi questo visto che poi tu devi scappare io devo rispondere a un'esigenza improrogabile momentanea quindi magari se ci sono domande ad Enrica farei fare un rapidissimo giro di domande ad Enrica visto che poi dai sei sei meno cinque deve scappare anche alle sei sì sì prego io torno due minuti sono di nuovo qua perfetto e Leonora va bene no come sì sì assolutamente mi è sembrato veramente hai dato un panorama di una ricchezza incredibile di un patrimonio che non credo sia poi così conosciuto diciamo che appunto il progetto si rivolge alle scuole e anche alle biblioteche quindi anche qui ovviamente se ci sono delle domande interessanti o anche insomma delle domande per approfondire le cose che hai detto per esempio per partecipare ai corsi cosa bisogna fare l'iniziativa formativa sono aperte a tutti o sì sì allora i corsi sono aperti sempre a tutti e sono finora sono stati praticamente tutti gratuiti quindi siamo riusciti a farli gratuiti quindi noi li pubblicizziamo li mettiamo nel sito e li mandiamo nella newsletter e nei nostri canali social e diciamo che abbiamo un'ottima risposta cioè ormai abbiamo docenti che vengono cioè che partecipano perché diciamo che ultimamente appunto li abbiamo fatti tutti online e quindi la risposta ormai arriva insomma da tutta Italia approfitto diciamo perché se non ci sono domande mi sembra anche giusto nel senso che in effetti l'idea è un po' quella di stimolare poi magari a guardarlo un po' no e a capire se c'è qualcosa che interessa alle persone per esempio adesso per il 25 aprile stiamo organizzando un corso in presenza sui giochi da tavolo di storia quindi noi vorremmo proporre agli insegnanti ma non adesso noi cerchiamo di limitarci ai giochi da tavolo perché ovviamente non è che non vogliamo cioè pensiamo anche ai videogiochi però abbiamo pensato questa volta di puntare proprio su giochi e far venire qui gli insegnanti ci sarà un'introduzione del curatore dell'inventore diciamo del gioco e si giocherà e quindi l'idea è proprio quella di portare poi il gioco in scatola anche in classe noi siamo consapevoli che spesso i giochi in scatola sono molto lunghi quindi noi abbiamo posto anche questa questione ai curatori e comunque immaginiamo anche che potrebbero essere anche delle iniziative un po' non dico di extra scuola ma magari in momenti diciamo in progetti che ci sono dentro le scuole in cui ci sono più 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 che c'è più tempo però per esempio questa è un'idea che adesso a cui stiamo lavorando e a cui daremo il massimo della pubblicizzeremo tra l'altro ci sarà anche Igor e quindi tutto quello che facciamo sostanzialmente il nostro problema è farlo conoscere però insomma pian piano penso che insomma le cose miglioreranno hai detto prima che si può anche venire in presenza a visitare gli stori sì sì certo noi facciamo anche le visite alle classi e comunque ovviamente l'esperienza di venire qui a volte facciamo anche i progetti con le classi che vengono qui che sono ovviamente è il posto della ricerca quindi comunque anche portare gli studenti al polo del novecento anche quella è un'altra soprattutto quelli più grandi perché poi c'è uno spazio in cui si può studiare quindi diventa un po' frequentare un luogo che in cui poi le iniziative ci sono però se anche non ci sono ci puoi lo stesso andare mi sono tornato benissimo perfetto ci sono la questione dei giochi tra l'altro è un'altra delle cose di cui mi occupo ma questa la faccio in realtà soltanto per avere la scusa di giocare poi la sera quando torno a casa sto lavorando sto studiando in realtà è una scusa evidentemente ci sono altre domande Federica o posso andare vado ok posso chiederti una domanda così giusto per ci dirai anche cos'è a te ci dirai anche che cosa come si definisce un digital historian o nella tua chiacchierata se volete una definizione molto 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 semplice è che il digital historian è una figura con delle competenze appunto come ha detto anche Enrica storiche indubbiamente innanzitutto ma anche tecniche digitali e quindi è uno storico che analizza il digitale i prodotti digitali li sa utilizzare e quindi li sa utilizzare anche per veicolare sapere storico su determinati temi specifici o sapere storico più in generale un digital historian oggi per esempio secondo me non può non occuparsi di Wikipedia e sono convinto di questo poi insomma c'era anche la frase di non mi ricordo l'autore di quella frase molto bella che disse lo storico del futuro sarà un programmatore o non sarà o non sarà affatto mi sfugge proprio il nome comunque la durì la durì e come dice sempre anche Enrica Salvatori che è il prototipo di digital historian il capostipo meraviglia la conosce credo la storica che insegna all'università di Pisa lei è una medievista peraltro non è una contemporaneista e Enrica appunto sostiene che uno storico oggi non può essere in grado non può non essere in grado di compilarsi quantomeno una bibliografia in Word cioè è proprio il livello minimo di uno storico oggi quindi il digitale è essendo nelle nostre vite entra anche nelle nostre discipline il digital historian in particolare è qualcuno che ne ha una contezza maggiore e anche di come può essere utilizzato e anche di come può non essere utilizzato penso che non è che il digitale di per sé sia sempre poi se volete possiamo stare qui un'altra mezz'oretta davanti a una birra e parlare delle differenze tra digital historian e digital public historian e poi c'è il digital public sì stavo per dirlo però dai facciamo un altro ma si passano serate al pub su queste cose che non finiscono più insomma quindi no però fondamentalmente la definizione è questa io invece ripartirei condividendo lo schermo ok ho condiviso sì vedete perfetto partirei da qui che è invece il portale Enrico appunto vi ha detto che Istoretto fa parte della rete della rete pari anche se in realtà Istoretto è stato fondato prima dell'istituto nazionale perché Istoretto è stato fondato nel 47 il nazionale nel 49 quindi è una sorta di fratello maggiore questo è il portale del nazionale portale perché appunto non è un semplice sito web ma c'è una rete intranet attraverso la quale molti attori partecipano alla creazione dei contenuti della pubblicazione ed ha accesso a diversi servizi non mi faccio la storia del portale perché sarebbe lunghissima però mi concentro invece su due risorse accessibili dal portale cioè le due riviste dell'istituto se noi parliamo oggi di libera conoscenza parliamo anche di libera conoscenza sul sapere esperto sul diciamo l'alta scientificità quella che attiene alla formazione accademica e in termini di libera conoscenza la questione delle riviste scientifiche accademiche è ancora oggi una questione molto sensibile e problematica perché le riviste scientifiche accademiche tendenzialmente non sono ad accesso libero molto banalmente anche se sensibili cambiamenti stanno avvenendo non per niente Italia Contemporanea la rivista storica dell'istituto nazionale fondata nel 49 quindi praticamente appena è stato fondato anche l'istituto da qualche anno ha aggiunto una sezione di articoli disponibili solo in forma online gratuitamente sono 4 o 5 a numero e quindi si è un po' aperta a diffondere la sua conoscenza in modo libero ma evidentemente non siamo a livello di condivisione di libertà di conoscenza di 900.org che è la rivista invece di didattica della storia dell'istituto nazionale Ferruccio Paro 900.org è una storia abbastanza lunga se consideriamo la giovinezza del mondo del web perché la prima versione di 900 risale all'inizio degli anni 2000 è stata creata da Antonino Criscione poi purtroppo Antonino Criscione è venuto a mancare molto giovane aveva neanche 50 anni e la rivista quindi è rimasta ferma per un lungo periodo è stata poi ha ripreso poi le pubblicazioni nel 2011 e tra l'altro c'è presente Elena Mastretta che è redattrice della rivista quindi Elena magari correggimi se dico qualcosa di inesatto mi sembra il 2011 ma lo vediamo dall'indice in realtà il primo numero è il 2013 se il 2011 è ricominciato il lavoro della redazione ci abbiamo messo un po' a carburare ma insomma poi nel 2013 è uscito il primo numero 900.org è un esempio interessante oggi e lo vediamo poi nella descrizione ma è un esempio interessante anche proprio per quando per l'epoca a cui risale e per la persona che l'ha prodotta perché all'epoca appunto nel 2000 inizio anni 2000 i siti web non erano moltissimi il web era ancora web statico Antonino Criscione che era distaccato qui al nazionale comandato era un docente di scuola quindi destinato a lavorare qui all'istituto lui aveva analizzato approfonditamente tutti i siti all'epoca pochi che c'erano negli istituti arrivando a una classificazione una tassonomia di qualche tipo e giungendo però alla conclusione che se si ragiona di divulgazione storica di diffusione di trasmissione del sapere storico in ambiente digitale soprattutto la rivista telematica rappresenta la forma più alta perché nell'idea di Nenea Criscione essa univa la capillarità di pubblico potenziale che dà la dimensione digitale alla scientificità delle riviste canoniche carte però più cartacee e infatti da questa sua intuizione secondo me molto bella e molto interessante nasce la volontà di creare la rivista la rivista all'inizio è più un bollettino per certi versi anche di aggiornamento dei docenti nella sua versione attuale che risale appunto al 2011 poi al 2013 il primo numero del nuovo ciclo ha invece una forma un po' più da rivista appunto con due numeri all'anno anche se pubblica ciclo continuo e anche una struttura un po' più rigida con dei contenuti che sono categorizzati sulla base diciamo così della tipologia del livello di approfondimento ogni numero ha al suo centro sono due numeri all'anno quindi un numero ogni sei mesi ha al suo centro un dossier l'ultimo numero ne ha per esempio invece due se scorriamo l'indice l'ultimo numero adesso è già aperto questo qua numero 18 che si è chiusa a dicembre ha due dossier uno sullo sviluppo sostenibile ambiente patrimonio che peraltro è uno dei pilastri dei tre pilastri dell'educazione civica della legge sull'educazione civica che prende le mosse dalla summer school che l'istituto nazionale parri fa ogni anno e nel 2021 è stato appunto sull'ambiente e la sostenibilità e poi c'è un dossier invece di intervento un po' più concreto sul presente perché c'è un dossier sul giorno del ricordo per il giorno del ricordo che in particolare riflette con ben due contributi sulle linee guida per la didattica della frontiera adriatica e questi sono contenuti diciamo di approfondimento più storiografico poi ci sono tre rubriche pensare alla didattica storia pubblica e didattica in classe storia pubblica parliamo magari dopo pensare alla didattica e didattica in classe sono due rubriche fondamentalmente complementari in una pensare alla didattica ci sono riflessioni più teoriche su come fare didattica in classe per esempio Enrica qui presente ha pubblicato nel numero precedente una riflessione metodologica sulle EAS sugli episodi di apprendimento situato mentre invece didattica in classe ospita delle riflessioni anzi delle proposte di carattere molto operativo quindi proposte che un insegnante può prendere così come sono e portare in classe e utilizzare in classe oppure può usare come modello per costruire delle esperienze didattiche delle attività didattiche di tipo sempre comunque partecipato laboratoriale cambia poco o stravolge anche tutto perché no quindi sono due livelli diciamo così uno più teorico e uno un po' più pratico la rubrica storia pubblica è diciamo invece una creatura un po' particolare perché nasce come uso pubblico della storia quindi nasce come una rubrica di intervento sui temi sensibili e quindi anche questo è un po' come approfondimento più teorico per i docenti ma poi si apre appunto al discorso della storia pubblica o public history faccio una parentesi doverosa visto che sono nel direttivo dell'associazione italiana di public history uso pubblico della storia e public history non sono sinonimi uso pubblico significa appunto come la storia viene utilizzata bene e male bene o male pubblicamente da vari soggetti tra i quali anche partiti politici piuttosto che la public history invece è proprio un concetto di diverso di produrre i contenuti storici nella sua accezione più alta più estrema anglosassone la public history significa costruire i contenuti storici insieme al pubblico non tanto per un pubblico vasto ma proprio con il pubblico magari se volete ci torniamo ci torniamo dopo anche su questo però insomma questa rivista pubblica tutti gli articoli ovviamente proprio perché si parla di libera conoscenza sono gratuiti liberi accessibili in qualsiasi momento scaricabili Igor e anche scaricabili in pdf scaricabili in pdf sì 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 adesso prendiamone magari uno prendiamone una a caso magari ne prendiamo Enrica è vero il tuo e appunto poi la cura è scientifica perché comunque c'è una redazione ci sono norme editoriali molto rigide da rispettare abbiamo iniziato anche col numero precedente la blind peer review quindi non è un blog diciamo senza nulla togliere ai blog ma naturalmente dietro ai blog spesso non c'è una redazione non ci sono redazioni molto più piccole molto più agili questa è una rivista a tutti gli effetti che però è completamente gratuita appunto poi quando si arriva in fondo all'articolo dopo le note c'è appunto l'iconcina per scaricare il file pdf e poterselo leggere tranquillamente anche e archiviarselo come? no dico e poi archiviarselo crearsi appunto la propria biblioteca anche stamparlo volendo ma insomma se non arrivi adesso di quello non ne parliamo non stampiamo non produciamo carte inutilmente insomma no e quindi questo è un esempio che mostra proprio come una frontiera secondo verso la quale dovrebbero tendere un po' tutte le riviste all'estero un po' ci stanno arrivando una delle riviste per esempio più seguita al momento è quella della DeGruiter Public History Weekly che è completamente gratuita anche quella è una frontiera alla quale le riviste piano piano dovrebbero comunque arrivare anche se c'è molta fatica si fa molta fatica a far intendere soprattutto agli editori che giustamente vogliono qualche ma posso farti una domanda certo ma cioè le riviste di solito hanno gli abbonati e qui come funziona nel senso che io come faccio a sapere che si aggiorna perché comunque ci sono due numeri l'anno però gli articoli escono durante il semestre escono durante il semestre vengono rilanciati sulla piattaforma social sull'account social di novecento.org ed è l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e di chiunque nella rete li voglia condividere visto che c'è il tipo redattore c'è il sottoscritto che tutte le settimane manda all'area di istituti la notizia che è uscito un nuovo articolo c'è la newsletter c'è anche una newsletter ci si può iscrivere il link è in alto adesso lo recuperiamo eccolo qua ci si iscrive alla newsletter e prima l'abitudine mia era di pubblicare ogni mese una newsletter con le novità siccome siamo passati da un obbligo di pubblicazione ogni settimana a un ritmo un po' più lasco almeno in teoria poi in realtà pubblichiamo comunque ancora sempre un articolo ogni settimana io mando adesso una newsletter alla fine di ogni numero cioè quando il numero si chiude mando una newsletter con l'indice vedendo la frequenza con la quale comunque stiamo continuando a pubblicare probabilmente tornerò alla pubblicazione mensile quindi praticamente iscrivendoti alla newsletter tu sai che esce quindi se poi sono usciti tot articoli in genere sono quattro articoli al mese perché sono quattro settimane quattro cinque poi in periodi un po' più caldi come ad esempio nella settimana del giorno della memoria e il giorno degli alpini anche perché il 26 gennaio era la giornata nazionale degli alpini sono usciti tre articoli ecco una cosa che devo dire grazie erica che mi hai fatto venire in mente l'ultimo articolo in storia pubblica riguarda proprio la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini che cerca di contestualizzare come è nata quella ricorrenza è molto bello questo articolo di Filippo Masina che è un allievo di Nicola Labanca e si muove proprio tra storia e memoria facendo anche capire quali sono un po' gli usi pubblici e politici della memoria stessa ok manca poco quindi vi farei vedere due ultime cose a questo punto e andiamo sulle banche dati tre cose adesso ce la faccio ah sì 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 prima che farvi vedere la stampa clandestina che è una banca dati in realtà per specialisti perché raccoglie appunto tutti i periodici purtroppo ci sono molte lacune è un patrimonio molto precario quello della stampa clandestina sono i giornali prodotti dai partigiani e dai partiti politici in clandestinità durante il 43-45 quindi occupazione nazista repubblica sociale italiana fascismo e così via patrimonio precario perché le tirature erano ridotte e perché le copie spesso venivano distrutte perché essere trovati in possesso di un giornale clandestino significava essere quanto meno se andava bene arrestato se andava bene se andava male magari anche inciso sul posto quindi è un patrimonio precario ci siamo voluti un po' di tempo per recuperarlo tutto è un patrimonio che se ci pensate è anche un po' un paradosso nasceva come un patrimonio per diffondere no? cioè che aveva un patrimonio che doveva avere grandissima diffusione la propaganda cioè il tentativo era quello di convincere le masse informare le masse e adesso invece però è un patrimonio di fonti che sono appannaggio degli specialisti anche perché il pubblico diciamo così è poco incentivato a contribuire alla banca dati perché non conserva personalmente questi esemplari quindi si sente poco engaged si sente poco coinvolto è però interessante perché noi di ogni testata magari prendiamo l'avanti la potevo fare anche la ricerca di ogni testata questo è l'avanti dell'Emilia Romagna dovremmo avercelo per ogni testata c'è la possibilità di leggere il numero e ogni numero ha al suo interno la scansione OCR che ci permette di cercare parole nel test per esempio io cerco Buozzi e lui mi trova tutte le occorrenze di Buozzi questo è un patrimonio archivistico che conserviamo in parte noi in parte Istoreto in parte appunto la fondazione Kulishoff come è questo come è il caso di questo esemplare in parte l'Istituto Gramsci di Roma in parte la fondazione ISEX insomma però è un patrimonio che questi enti hanno deciso insieme di condividere è però purtroppo un patrimonio come vi dicevo piuttosto di nicchia cioè è riservato appunto agli specialisti un altro esempio e se ragioniamo di educazione civica ed educazione della cittadinanza è un esempio molto calzante è quello delle ultime lettere le ultime lettere di condannati a morte di deportati della resistenza cioè sono gli ultimi scritti composi dai partigiani prima della fucilazione o dei deportati insomma l'ultimo scritto che ci è rimasto dei deportati alcuni scritti addirittura dal campo in Germania nei campi di lavoro di solito nei campi di concentramento era più difficile oppure l'ultimo scritto dei deportati prima di lasciare insomma l'Italia anche qui non sono purtroppo molti casi perché abbiamo tantissime trascrizioni a macchina anche qui sarebbe un po' lungo da descrivere il perché però gli originali la pubblicazione della Banca Lati nasce dalla pubblicazione cartacea di Malvezzi Pirelli che forse avrete anche visto appunto lettere di tornare a morte Malvezzi Pirelli all'epoca della loro ricerca era insomma negli anni 50 non chiedevano gli originali perché sapevano che i familiari non glielo avrebbero mai concessi perché c'era un legame affettivo molto forte col documento e oltretutto a loro non interessava il documento a loro interessava il testo scritto perché l'intento di Malvezzi Pirelli era comunque costruire un martirologio un'immagine edificante della resistenza non che non emerga lo stesso anche dagli originali però magari negli originali ci sono alcuni accenni un po' più polemici magari si chiede vendetta magari c'è qualcuno anche che ha un ripensamento perché di fronte alla certezza della morte ci può anche essere un ripensamento più che legittimo insomma siamo riusciti a recuperare diversi originali ce ne sono alcuni molto molto particolari vi faccio vedere dunque se potrei farvi vedere di questi originali beh c'è sicuramente Jambon no Gervis no no Gervis è interessante perché è interessante il supporto no Gervis è altra che sulla Bibbia non si vede no sbagliato era Vian che inizio Vian scrivesse l'ultimo messaggio su una pagnotta ok vediamo se lo recuperiamo tutti i nomi questo vedete c'è l'immagine e quindi insomma in questo caso l'originale restituisce anche una potenza del momento no cioè non avere neanche la carta e la penna per scrivere un messaggio e naturalmente poi il contenuto di queste lettere in termini di educazione civica ha tutto un portato ideale del sacrificio del martirio che poi è alla base della religione civile dovrebbe essere alla base della religione civile del nostro paese purtroppo non sempre così ultimo esempio e arriviamo a un elemento un po' critico la transe delle stragi anche qui la memoria degli episodi di uccisione dei civili è una memoria peraltro che ha a che fare molto con i territori e infatti è una banca dati questa molto consultata proprio perché va ad intercettare le istanze delle associazioni delle associazioni familiari delle vittime storici locali quindi è una banca dati che veramente fa 350.000 contatti all'anno che per un prodotto di questo genere sono tantissimi è una banca dati che quindi ha un grandissimo impatto anche questo ideale ideologico in termini di educazione civica però è una banca dati che è sì in creative commons in licenza in licenza libera diciamo così quindi è conoscenza aperta ma non si possono trarre opere derivate quindi le schede dell'Atlante non possono essere utilizzate per fare altro che è il grande problema che abbiamo per esempio con Wikipedia io sono in trattativa diciamo così sono in contatto con wikipediani che mi chiedono di poter utilizzare le schede dell'Atlante all'interno dell'eciclopedia e finché non viene cambiata la licenza e non viene cambiata per volontà dell'istituto non certo per volontà di Igor Pizzi Russo che non conta niente finché non si cambia la licenza purtroppo quelle schede non si possono utilizzare e però un aspetto positivo all'inizio vi parlavo dello scambio di dati quindi uno scambio tecnologico non tutto il corpus documentario ma a me arrivano spesso delle richieste di esportazione di parti del corpus documentario siccome la tecnologia che è alla base di tutti quanti questi prodotti digitali è una tecnologia open source perché è Linux è MySQL è PHP questi dati sono assolutamente esportabili e visualizzabili anche molto banalmente in un foglio Excel e quindi diciamo che nonostante questo limite sulle singole schede almeno il corpus dei dati non nella sua totalità ma è ad accesso per lo più libero per chi per chi lo dovesse richiedere non è immediato ma ma a richiesta si risponde insomma ho un corso ho detto un sacco di cose forse anche in un modo molto confuso ma no no molto chiuso se ci sono domande anche qui è una ricchezza che non conoscevo di di non è il mio non è il mio quindi per me era tutto tutto nuovo molto interessante chiedo se ci sono domande ovviamente questo seminario era pensato per essere come dire divulgativo e ringrazio davvero entrambi i relatori perché sono stati molto chiari e molto e molto come dire didattici anche nella loro presentazione quindi questo assolutamente utile perché appunto immagino il grande lavoro che c'è dietro di recupero di organizzazione di gestione di questi attivi di queste informazioni io ero molto curiosa di sapere cosa avete fatto nell'urban game lo confesso anche io sono un appassionato di giochi e quindi ho visto questa cosa dell'urban game e mi ha incuriosito molto ma l'urban game è una bella esperienza c'è anche una versione digitale che però io uso soltanto nei laboratori didattici perché propedeutica è un'attività che faccio fare agli insegnanti o agli studenti anche l'urban game è un urban game di fatto è una spy story ma è una spy story che in realtà non ha nessun elemento di finzione nel senso che è una spy story sull'arresto e la liberazione di Ferruccio Parri che avviene appunto a Milano nel 1945 tra gennaio e marzo del 45 e attraverso l'uso di carte d'archivio che sono elementi di svolta nella trama quindi quando noi diciamo ai giocatori c'è questa missione da fare glielo diciamo facendo di vedere la carta originale del corpo volontario di libertà degli organismi militari o politici della resistenza che dicono bisogna fare questa cosa e poi sono utilizzati anche i documenti come proprio kit di gioco cioè per decifrare alcuni enigmi è necessario utilizzare un codice di decrittazione partigiano originale anche in quel caso e quindi poi attraverso questa esperienza si visitano alcuni dei luoghi alcuni noti anche se poi ci accorgiamo che spesso noi li diamo per scontati ma non lo sono della città di Milano legati al periodo appunto dell'occupazione nazista del fascismo e della resistenza e altri anche meno noti una delle cose più interessanti per esempio è scoprire che tutta la zona intorno al castello sforzesco era piena di uffici nazisti dell'esercito tedesco con tanto di cavalli di frisia che diventavano gli accessi ai portoni quindi è un modo per far conoscere alcuni elementi della città che spesso non sono conosciuti a volte anche qualcuno della città viene quest'anno per esempio abbiamo prenotati 50 alunni di Casale da Casale Monferrato vengono quindi questa iniziativa questo gioco lo ripate periodicamente lo facciamo tutti gli anni diciamo che siccome siamo poi sempre in due a farlo io e un altro mio carissimo amico Giorgio Berti cerchiamo di non farlo più di tre o quattro volte perché diventa comunque molto dispendioso perché sono tre ore però potete di preparare perché c'è anche una parte diciamo un po' recitata perché io e lui interpretiamo due agenti dello spionaggio e del controspionaggio e apparentemente giocano nello stesso campo poi in realtà no quindi quest'anno ne abbiamo già quattro prenotate Leonora ci andiamo anche noi ma sono per le scuole poi in realtà lo faremo fare anche con la cittadinanza però con la cittadinanza è un po' più in incognita perché tu lanci l'iscrizione e non sai se poi ovviamente viene gente però adesso ne abbiamo fatte due e due volte sono almeno 20 persone c'erano però ma infatti vabbè l'ultima domanda visto che o meno che ci sia qualche qualche ascoltatore che ho partecipato che vuole interagire che volevo farti era su questo pop history che è un'altra delle tue iniziative che ho visto dal tuo dal tuo presentazione cosa vuol dire fare pop history la pop history è un termine che viene accusato ma la popolarità la storia popolare la storia sociale in qualche modo potremmo definirla però in realtà il termine non nasce da quello pop history è un'associazione che si è formata ormai sei anni fa cinque anni e mezzo fa dagli studenti del master del primo master di public history in Italia che è quello dell'università di Modena in Reggio Emilia e che quindi hanno deciso di costituire questa associazione per fare continuare a fare quasi insieme io in realtà non ho fatto quel master sono entrato dopo attraverso conoscenze e si fa public history in realtà si fanno iniziative di public history un progetto più grosso che abbiamo fatto ultimamente è questo frammenti dal passato che è un modo un po' particolare per raccontare il territorio di Vado Monzuno che è nell'Appennino bolognese è uno dei paesi vessati dalla strage di Montesole ma che in realtà storicamente ha anche altri elementi quindi l'obiettivo di questo progetto era fare emergere le memorie e i fatti storici con la partecipazione della cittadinanza sia di quell'evento tragico ma anche di altre cose per esempio è il luogo che viene di fatto devastato dalla direttissima la direttissima Milano Roma Bologna Bologna-Firenze quindi insomma significa fare un po' storia col territorio oppure fare giochi che invece è un'altra delle cose che facciamo spesso Milano 45 nasce in realtà da una collaborazione tra Popistori e l'Istituto Nazionale Pari ho capito bene sono le 18.06 se ci sono domande c'è ancora qualche minuto di tempo per farlo visto che i nostri relatori sono ancora più con noi se no i limiti si possono anche lasciare i contatti sì 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 lasciate i nostri contatti lascia pure i nostri contatti così se qualcuno ha interesse ci contatta io devo abbandonare ma tanto per concomitanza di iniziative non so se diciamo che è stato molto molto interessante vi ringrazio appunto anche da un punto di vista civico per tutto quello che fate in termini di divulgazione di condivisione che è come dire fondamentale è importantissimo grazie a tutti a tutti grazie a tutti buonasera grazie Laura grazie Igor grazie a tutti